Sono quasi 100 le donne uccise all'inizio dell'anno ad oggi, dimostrazione che la violenza sulle donne è purtroppo un fenomeno difficile da restare. Riflettere ed educare quindi diventa necessario. In questo contesto si inserisce il concorso fotografico artistico locale, un obiettivo contro la violenza sulle donne. Rivolte ragazzi d'età comprese fra 14 e 20 anni al fine di promuovere una riflessione tra i giovani sulle sane relazioni tra i sessi e favorire la sensibilizzazione e l'educazione al principio di pari opportunità uomo-donna. Il concorso è organizzato dall'associazione Tamaia Ollus con il patrocino della provincia regionale di Catania, in collaborazione con l'associazione nazionale Dire grazie alla sponsorizzazione di Avon Italia. Il bando e il programma delle varie attività saranno costantemente proposti e aggiornati sul sito www.tamaia.org. Oggi c'è la presentazione, la presenza di alcuni ragazzi accompagnati dai docenti di scuole di Catania e provincia, il concorso comunque aperto a tutti i ragazzi dai 14 ai 20 anni, anche quando non dovessero frequentare alcuna scuola. Il bando è scaricabile sul sito www.tamaia.org ed il 30 ci sarà la premiazione. È un concorso fotografico nel senso che i ragazzi dovranno cogliere tramite delle foto quello che secondo loro è la differenza di genere e soprattutto la violenza dell'uomo nei confronti della donna perché sappiamo che siamo arrivati quasi a 98, 90, non ricordo bene, mi pare 98 donne uccise dall'inizio dell'anno. Quindi il fenomeno è assolutamente lungi dal frenarsi o comunque da avere qualche sintomo di rallentamento, continua ad essere presente a tutti i livelli. Per cui sensibilizzare i ragazzi che saranno il futuro di domani ci sembra la cosa più opportuna e proprio per questo è stato realizzato un concorso rivolto ai giovani.